Gestire le esigenze di connettività della tua azienda non è mai stato così facile. Con il portale Self-Care Win the 3 Business potrai chiedere assistenza, visualizzare i tuoi consumi, gestire le tue linee o scaricare le tue fatture. Tutto questo in modo semplice, comodo, veloce. Sei responsabile aziendale? Registrati e accedi per gestire tutti i tuoi prodotti. Compila tutti i dati richiesti con le informazioni presenti nel tuo contratto e ricevi subito l'email per accedere. Crea altri profili responsabili dell'area dedicata. Inserisci le informazioni richieste e la creazione sarà immediata. La home page dedicata al responsabile presenta una panoramica immediata e dettagliata di tutte le linee. Accedendo al traffico mobile è possibile visualizzare lo storico del traffico effettuato, mentre in traffico aggregato selezionando le singole SIM ne visualizzi il traffico. Clicca su Genera per scaricare il report del traffico delle tue SIM. Richiedi al servizio clienti l'abilitazione dei report per scaricare il file Excel riepilogativo. Puoi visualizzare tutti i tuoi dispositivi registrati. Selezionando un singolo dispositivo è possibile visualizzarne i dettagli. Nell'area Conto Account puoi visualizzare le principali informazioni relative all'azienda, tra cui l'anagrafica. Su Le tue fatture puoi visualizzare e verificare, oltre alle fatture emesse negli ultimi 24 mesi, anche quelle emesse per smartphone e apparati del fisso. È possibile pagare direttamente online le fatture scadute tramite carta di credito o PayPal. In area Fai da te trovi tutte le funzionalità per gestire le tue linee. Con Self Care puoi aprire in autonomia le richieste di assistenza. Sarai sempre supportato nell'inserimento della segnalazione e in caso di richiesta blocco e-mail è possibile scaricare, compilare e poi fare l'upload diretto dei documenti necessari all'invio della pratica. Dalla sezione Richieste e segnalazioni visualizzi lo storico e lo stato di lavorazione dei tuoi ticket. Self Care è accessibile anche per i dipendenti sia su desktop che mobile tramite app per tenere sotto controllo i consumi e le offerte. Questo è tutto. Non ti resta che entrare su Self Care tramite questo link per visualizzare e gestire le tue linee aziendali.